Amici del Bardo, eccomi di nuovo qui per parlarvi di Magic, il miglior gioco al mondo. Perché? Beh, è presto detto, perché nel weekend c'è la pre-release di Dominaria, la nuova espansione. Tra l'altro è attiva la promozione Buy a Box. Se prenotate un box di Dominaria, vi verrà consegnato nei giorni della pre-release, quindi una settimana. In anticipo rispetto all'uscita ufficiale nei negozi. E in più vi sarà addizionata una carta speciale, promo, legale, in standard e in diversi altri formati. Che sarà ottenibile soltanto attraverso questa strada. Insomma, quella carta non la trovate nelle bustine. E a proposito di bustine, grazie ai produttori del gioco, io ne ho già qui due. Posso aprirne due in anteprima assoluta. È una figata pazzesca. E allora andiamo a scoprire quali tesori estrarrò dal primo pacchetto. Vediamo un po' e ovviamente vi mostrerò le carte che più riterrò interessanti. Oh, legame spezzato. Questa mi piace. È una stregoneria verde, una comune, che però ha un effetto molto particolare. Distrugge un artefatto o un incantesimo bersaglio. E io credo che ce ne saranno parecchi nel nuovo standard. Che è il formato ideale per chi ha appena iniziato a giocare. Poi puoi mettere sul campo di battaglia una carta terra dalla tua mano. Quindi ti accelera le terre e distrugge qualcosa all'avversario. Magari può essere una utilities interessante da sideboard, che sicuramente troverà, secondo me, spazio in diversi mazzi. Vediamo un po' cosa mi piace. Oh, qui abbiamo un tritone particolare, un 1-3. Ci sono già dei mazzi tritoni abbastanza interessanti. Questo è poco aggressivo rispetto ad alcuni suoi colleghi, mettiamola così, perché ha solo uno di attacco. Però costa due, quindi la difesa è buona, due di cui uno blu. La difesa è buona e in più se lo tappi ti dà un mana in colore che puoi spendere solo per lanciare magie istantanei o stregoneria. E visto che il blu è pieno di questa tipologia di spell, di istantanei o stregonerie, e direi che ci si può far sopra un pensierino. Magari in draft o in altri formati può essere una carta selezionabile. Allora... Beh, la disapprovazione di Gideon, anche lei, quando si aprono le bustine e si deve costruire un mazzo con poche risorse, può essere una rimozione importante. Il costo di lancio è basso, due di cui uno bianco è un istantaneo e infligge quattro danni a una creatura attaccante o bloccante non male. Stiamo per entrare nel pool delle carte più, diciamo, ambite, le non comuni e le rare. Ma vediamo un po'. Cosa tiro fuori? Questo è un cavaliere particolare. Il cavaliere della malvagità. Già il nome è epico. Il cavaliere della malvagità. Una sorta di cavaliere nero, sempre perennemente arrabbiato col suo gonfalone. Cosa ha questo cavaliere? Ha attacco improvviso, quindi attacca prima degli altri. Antimalocchio dal bianco, quindi non può essere bersaglio di magie o abilità bianche, che non è male, è una bella abilità evasiva. In più, questo cavaliere prende più 1, più 0, fin tanto che un qualsiasi giocatore controlla un permanente bianco. Quindi è un 2-2 che potrebbe trovarsi anche un pochino più accresciuto. L'ultima carta non comune è leggendaria. Guardate che bello il nuovo look delle carte leggendarie. Magari c'è qualche riflesso, però credo che a casa si notino le differenze rispetto al passato. Un tritone 3-3 che costa 5, di cui uno verde e uno blu. Il costo di lancio è un po' alto rispetto alle statistiche, però ogni qualvolta una terra entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, guadagni un punto vita e peschi una carta. Ebbè, l'abilità specifica correlata mitica il costo di lancio e la forza e la difesa 3-3 che non sono propriamente statistiche da urlo. Non male, non male. La carta rara è una terra doppia. Una terra doppia, la cascata sul furia, rosso-blu, che entra nel campo di battaglia tappata, a meno che io non controlli un'isola o una montagna. E visto che le terre sono l'impasto principale per giocare le magie, direi che sono molto contento di questa carta rara. E ora, secondo pacchetto. Sarò fortunato? Troverò un planeswalker? Troverò magari una saga? Visto che ci sono anche le saghe in questa espansione? Stiamo a vedere. Intanto, a me piacciono un sacco gli elfi e questo è l'esploratore di Llanowar. Un 1-3, a costo 2, di cui uno verde, ovviamente gli elfi stanno nelle foreste, che come abilità, se lo tappo, posso mettere sul campo di battaglia una carta terra dalla mia mano. Di solito gli elfi ti danno questi vantaggi, queste accelerazioni con le terre o col mana, e anche lui non esce da questo, chiamiamolo, cliché. Oh, i ratti, la colonia dei ratti, un 2-1 a costo 2, di cui uno nero, non una creatura fortissima oggettivamente, però, innanzitutto, non sei limitato ad averne solo 4, perché il tuo mazzo può avere un qualsiasi numero di carte chiamate colonia di ratti. E poi, questa creatura prende più 1-0 per ogni altro ratto che controlli. Se c'è qualche amante delle pantegane, può pensare di crearsi un mazzo dedicato ai ratti. Questa carta qua a me piace molto, anche se il costo di lancio è un pochino alto, fra stornare un istantaneo, 2 mana in colori, 1 blu, e cosa fa? Indebolisce una creatura dell'avversario, gli dà meno 4-0, quindi si cuccano meno danni, ma soprattutto, ti fa pescare anche una carta, quindi, indebolisci un attaccante, probabilmente, dell'avversario, e non perdi una risorsa, perché è la carta che hai giocato, in tutto sommato, quella che è uscita dalla tua mano, ne hai una in più che vai a pescare. Vediamo se c'è qualcos'altro che mi piace farvi vedere. Oh, questa mi piace ancora, il blu, le carte blu mi piacciono parecchio in questa espansione. Batter d'occhio, costa 1 in colore, e 1 blu, e come sapete, le magie blu, di solito cercano di controllare, il campo di battaglia, di rallentare l'avversario, di impedirgli di giocare le sue magie, e questa cosa fa? Fa tornare un permanente non terra bersaglio, in mano al suo proprietario, ma puoi addirittura potenziarla quando la giochi, ovvero pagare 1 in colore, e 1 blu in più. Dipende, se hai la risorsa, e se vuoi farlo. Se la potenzi, se è stata potenziata, non solo fa quello che vi ho detto prima, ma ti fa pescare anche una carta. Quindi, a inizio gioco, ha un'abilità interessante per il suo costo di lancio. Più avanti, se riesci a potenziarla, e se ti fa comodo, oltre a effettuare ciò che fa, ti regala addirittura una carta in più. Quindi, non male per niente. Oh, ecco qua la saga. Parlavamo delle saghe. Questa è la fiamma di Keld. Le saghe sono molto particolari, perché quando entrano in campo, attivano un effetto che progressivamente cambia, sino a che non va ad esaurirsi, diciamo, la vita della saga, che viene scartata dopo, sostanzialmente, tre, chiamiamoli, fasi, tre fasi. Questa ti fa scartare la tua mano, quindi all'inizio non è molto utile, a meno che la tua mano non sia semi vuota. Poi ti fa pescare due carte, e alla fine, la terza fase della saga dice che se una fonte rossa che controlli sta per infliggere danno a un permanente o a un giocatore, in questo turno infligge invece altrettanti danni più due. Non male, ma bisogna studiarla bene. Questo è un incantesimo leggendario. Sono davvero belle le carte leggendarie nuove, o io ve le faccio rivedere, perché mi piacciono davvero tanto. Cosa fa? Un'incanta creatura, la creatura diventa leggendaria, prende più uno più uno, a volare, cautela, legame vitale, praticamente ha di tutto, sulle ali di serra. Non credo troverà tanto gioco in standard, ma in draft o in silent tech, secondo me questa può creare parecchi scompigli. Vediamo un po' cosa trovo come rara. Cos'è sta roba? Multani Avatar di Yavimaya, Yavimaya, una carta mitica addirittura, perché ha il simbolino rosso. Fantastico. Cosa dice? Innanzitutto è uno 0-0, è un leggendario, è un avatar elementale, costa 4 in colori e 2 verdi, un costo di lancio importante. A raggiungere, quindi blocca i volanti e travolgere, quindi il danno che fa, che non viene bloccato, passa comunque al giocatore in difesa. Allora, Multani, questo avatar importante, prende più uno più uno per ogni terra che controlla, e per ogni carta terra nel tuo cimitero. Quindi, immaginando che servano 6 mana, per metterlo sul campo di gioco, è verosimile ritenere che uno abbia 6 terre. Magari si è fatto aiutare da degli artefatti, o cose simili, o da degli elfi che l'hanno aiutato, però, questo probabilmente entra sul campo di battaglia come 5-5 o 6-6, insomma, ecco, non giriamoci attorno. In più ha un'abilità addizionale, se paghi uno verde e uno in colore, e non si tappa, puoi farlo quante volte vuoi, puoi far tornare due terre che controlli in mano ai rispettivi proprietari, e se lo fai, riprendi in mano Multani dal tuo cimitero. Quindi è logico che l'attiverai una sola volta per poterlo di avere in mano, se magari te l'hanno neutralizzato, oppure ci ha lasciato le penne sul campo di battaglia, per poterlo rigiocare. È fantastico, è pazzesco, è una bellissima carta, mi piace molto. Dai, mi sono talmente esaltato che apro anche l'ultimo pacchetto. Io ne ho fatti vedere due, in realtà ne avevo tre, questo volevo tenermelo per me, ma è stato così piacevole aprire gli altri due che andiamo col terzo. Questo lo aggredisco coi denti, ah sì, perché voglio delle carte super mitiche, bellissime, da inserire nei miei mazzi. Grazia Sanatrice. È un istantaneo, costa uno bianco. A volte le carte comuni vengono ignorate, ma invece piace guardarle perché spesso fanno la differenza. Cosa fa? Previene i prossimi tre danni che verrebbero inflitti a un qualsiasi bersaglio in questo turno. da una fonte a tua scelta e in più guadagni tre punti vita. Ma discreto, discreto. Vediamo se c'è qualcos'altro che... Oh, cos'è sta roba qua? Trafiggere il cielo. È un istantaneo. Verde che infligge sette danni a una creatura bersaglio con volare, costo di mana molto contenuto. Il verde non ha grandi creature volanti, anzi di solito non ne ha per niente, allora grazie a queste magie riesce comunque a controllare anche la stratosfera che passa sopra le piante. Allora, andiamo avanti. Bella questa. E viscerare. Distrugge una creatura bersaglio. È una stregoneria, costa 4, di cui uno nero, quindi in standard, magari è un po' sovrapprezzata come costo di lancio, ma ripeto, in alcuni formati di gioco, siled deck, oppure draft, questa è una rimozione di quelle importanti. Oh, il frammento di pietra del potere! Su questa carta vorrei inventarmi qualcosa, è un artefatto apparentemente innocuo che fa poco, costa 3 in colori, e cosa dice? Lo tappi e ti dà un mana in colore per ogni artefatto che controlli chiamato frammento di pietra del potere. Quindi, se ne hai uno, te ne dà uno, se ne hai due, te ne dà due, e tutti insieme creano tanta energia magica, se riesci a giocarne ovviamente in più copie. Quindi bisogna studiarsi bene magari qualche combinazione strana di carte, ma io credo che ci si possa lavorare sopra. Ora entriamo nel pool delle carte non comuni. Il monumento alla guerra. È una terra entratappato nel campo di battaglia, quindi non ti velocizza un granchè. Se lo tappi aggiungi rosso, se tappi 4 è un rosso, lo sacrifichi e distrugga una terra a bersaglio. Quindi salta per aria questa terra, ma anche una a bersaglio, quindi una del tuo avversario presumibilmente. Questa cos'è? Danita Capascen l'esemplare. È un 2-2 leggendario cavaliero umano bianco, due in colori ed un bianco, con attacco improvviso, cautela e legame vitale. Quindi tre ottime caratteristiche, cautela attacca senza tappare e legame vitale ogni volta che fa danno guadagni quei punti vita, quindi ti permette di restare a galla e tenere il campo. Le magie, aura ed equipaggiamento che lanci costano uno in meno per essere lanciate. Non male, anche questa può trovare collocazione in qualche mazzo speciale. La carta rara è un incantesimo ed è il bombardamento alla cieca. Fa molto assedio, lanciamo un po' di pietre, via! Cosa dice il bombardamento alla cieca? 5 mani in colori e uno rosso, costa tantissimo questo incantesimo, quindi mi aspetto che abbia un'influenza importante sul gioco. Allora, quando entra nel campo di battaglia scegli 4 permanenti non incantesimo che non controlli e metti un segnalino mira su ciascuno di essi. Sto già impazzendo. Ma impazzendo perché mi piace. All'inizio della tua sottofase finale, se 2 o più permanenti che non controlli hanno un segnalino mira, distruggi uno di quei permanenti a caso. Insomma, non è proprio strategica al massimo questa carta perché ti devi affidare un po' anche alla fortuna ecco, però potrebbe dare vita a qualche situazione di gioco molto molto ghignosa in ambito casual magari al venerdì sera al Friday night dove si va a giocare nei negozi che propongono magic con spirito meno competitivo e più rilassato. Bene, direi che per il primo sbusto di Dominaria quello in anteprima quasi esclusiva abbiamo terminato io vi rinnovo l'appuntamento con gli eventi di pre-release in tutta Italia da venerdì a domenica qua sotto in descrizione al video trovate lo store locator per individuare il negozio più vicino a casa vostra quindi l'invito è andate partecipate divertitevi e scoprite tutti insieme e insieme a me visto che parteciperò anch'io le novità di questa nuova espansione che sicuramente cambierà e ribalterà insomma le nostre convinzioni e soprattutto i mazzi dello standard che come sapete è il formato che al momento più mi intriga per ora grazie per l'ascolto e ci vediamo alla prossima sempre e solo qui in compagnia del bardo ciao